Ciao ragazzi e ragazzi, grande fratello V. Vediamo chi è stato eliminato in questa diciottesima puntata. I nominati sono Licia Nunez, Antonella Elia e Fernanda Alessa. La prima ad essere salvata da televoto è Licia e rimangono Antonella e Fernanda. Ma prima di comunicare il contenuto della busta, Alfonso Signorini ricorda alle ragazze che comunque vada, anche se uscirà una delle due, ha vinto lo stesso. Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la casa è Fernanda Lessa. Fernanda augura di vincere a Licia e ringrazia il pubblico per averla votata, perché in questo momento così difficile la sua famiglia ha bisogno di lei. Ma andiamo al secondo eliminato della puntata. Questa volta tra Aristide, Teresanna, Zekila e Sara è proprio Sara che deve abbandonare immediatamente la casa. Invece, per quanto riguarda i finalisti, oltre a Sossio, questa sera si aggiunge Aristide. Pertanto, gli eliminati sono Fernanda Lessa e Sara, mentre i primi due finalisti sono Sossio e Aristide. Ad essere in nomination, questa settimana abbiamo Patrick, Paolo Ciavarro e Zekila. Quindi via il televoto, chi uscirà? Attendiamo la prossima puntata. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye! Bye bye! Bye bye!